Si svolge a Bari la novantasettesima edizione del congresso nazionale dedicato all'urologia. In queste tre giornate, dall'undici al tredici ottobre duemilaventiquattro in Fiera d'Elevante, si discute e si presenta un ricco programma scientifico che include chirurgia, conferenze, discussione di casi e dibattiti, grazie ai centinaia di abstract che ogni anno vengono presentati da urologi e relatori, oltre mille provenienti da tutto il mondo, tra i temi più attenzionati, quelli per esempio legati alle patologie in età avanzata, con i tanti tumori da gestire per questi pazienti. Si parla inoltre di benessere, di nuove tecnologie. Importante anche la presenza del sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, che dice bisogna invertire la rotta attuale perché il 95% delle risorse viene speso per le cure e soltanto il 5% alla prevenzione. Bisogna esporsi in maniera particolare anche sul tumore alla prostata e contrastarlo. Mitigare quella proporzione che ci vede spendere il 95% per la cura e soltanto il 5% per la prevenzione. Molto si può fare in termini di prevenzione in urologia, penso al tumore della prostata, e al fatto che oggi si possa rendere obbligatorio e quindi dispensato dal sistema sanitario nazionale pubblico lo screening. Si parla di robotica, si parla di endurologia con strumenti sempre più performanti e miniaturizzati, si parla di poter predire l'outcome delle malattie, quindi abbiamo sul tavolo tante cose. E a fianco a questo il classico concetto è appunto di quella che deve essere la prevenzione, quindi l'identificazione precoce delle malattie.